Musica Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza E' passato pochissimo dall'ultima puntata e infatti non ho delle idee particolarissime per questa puntata Ho in mente due idee che sono piccoline diciamo così La prima è quella di aggiustare la farm di neve perché è assolutamente necessario farlo E poi sto rimandando troppo che sarebbe quella cupolina azzurra che vedete là di fianco al faro Diciamo di fianco nel campo visivo anche se poi il faro è molto più lontano La seconda idea sarebbe quella di abbellire la casa per cui nella scorsa puntata abbiamo costruito questa casetta Che come vedete non ho ancora abbellito Volevo mettere attorno qualche pianta, qualche cosa per non farla proprio sembrare lì messa a cazzo di cane nel nulla E non sono ancora riuscito a farlo, lo faremo insieme in questa puntata Nel frattempo discuteremo anche di qualche altra idea che vi voglio proporre per le puntate prossime, future E parliamo anche di altre cose Per esempio perché sto facendo oggi la serie di sopravvivenza e non per esempio la blazecraft Dato che toccava la blazecraft avrei dovuto registrare quella Sto facendo la serie di sopravvivenza perché la blazecraft richiederà un attimino di tempo per essere registrata Non ho delle zucche qui Non ho delle zucche Dobbiamo andare a prendere delle zucche Perché richiederà del tempo? Perché come saprete già l'Eternal Ice che è la mod portante della blazecraft 2 È stata recentemente aggiornata alla nuova versione Per cui io dovrò ricreare da capo il modpack per renderlo compatibile con la 1.7.10 Cosa che mi permetterà di risolvere abbastanza problemi di compatibilità tra le mod E anche di sistemare quel fatto delle statue Comunque non voglio farla troppo lunga Sappiate solo che sto registrando la serie di sopravvivenza per questo motivo Perché servirà del tempo per aggiornare la blazecraft E nel frattempo siamo qui nella farm di neve Dove devo cercare di sistemare questa dannata farm Che non ha mai funzionato del tutto E tra l'altro lo snow golem era anche morto Quindi non è una cosa bellissima Ce l'avrò una target per dare un nome allo snow golem Perché se io gli do un nome Poi siamo sicuri che questo non dispauna Perché sennò potrebbe dispaunare Allora intanto mettiamo Una staccionata così Ok E sopra la staccionata Mettiamo due blocchi di neve Per evocare appunto lo snow golem Quindi così Uno e due Metto la staccionata sotto al posto del blocco intero di pietra Perché il problema della farm è che quando spaccavo la neve La neve rimaneva lì sopra il blocco Mentre con la staccionata la neve dovrebbe cadere tutte Quindi dovremmo essere a posto Solo che qui ho sbagliato Perché prima Scendrebbe la testa E poi il resto Ma lì sotto c'è un buco Che cazzo sto combinando? Ho rotto tutto Ho rotto il sistema qui Cosa ho fatto? Allora No Scaviamo sotto perché tra l'altro ho anche perduto La zucca in questo modo E dove sarebbe il buco? Eccolo qui il buco Bene La zucca l'abbiamo recuperata? No Non so dove sia finita la zucca Vabbè ma poco importa Qui sotto Non Non deve andare così Che cazzo è successo ragazzi? Mi sto un attimo perdendo Allora Qua sotto Il drop Le palline di neve Ah eccola lì la zucca tra l'altro Ok La zucca ce l'abbiamo Perfetto Dicevo le palline di neve Vengono trasportate dall'acqua Finiscono nel buco E il buco Nel buco dovrebbe esserci un sistema Che sposta le palline di neve E le porta Ad un dropper Che appunto è qui Qui devo fare qualcosa per fermare l'acqua Per cui magari ci mettiamo Una staccionata Qua facciamo così Va bene E In questo blocco esatto Metteremo Una sorgente d'acqua Che spingerà i drop Fino alla tramoggia Per poi collezionare il tutto Nella chest Ok Adesso dovrebbe poter funzionare tutto Allora proviamo a dropparci dentro un blocco di terra Vediamo se esce dall'altra parte Ce ne sono due Perché ne è caduto uno prima Allora Riprendiamo questi due Facciamo un'altra prova Mettendone uno solo Vediamo se arriva Eccolo Ok Così funziona Bene E questo è fatto Ora Il golem Il golem Prendiamo i blocchi di neve Prendiamo la zucca Mettiamo Neve lì La testa qui Li mettiamo attorno della terra Per il momento E la neve sotto E non succede un cazzo Perfetto Perché non succede niente Non ha abbastanza spazio forse Potrei provare A fare una cosa con più staccionate Tipo così Però quel punto probabilmente cadrebbe nel buco in mezzo alle quattro staccionate Potrebbe anche essere Facciamo una prova Per cui se io salto così Posso caderci in questo buchino? No Quindi forse potrebbe funzionare Allora facciamo una piattaforma Fatta di nove staccionate Così E costruiamo Allora vabbè Ovviamente metteremo al centro il nostro snow golem Quindi Oddio non riesco più a salirci Vai Perfetto Quindi così Con sopra la sua zucca E costruiamo una specie di recinto attorno Che però sia più largo di quello di prima In modo da dargli lo spazio per spawnare Dunque prendiamo Il ghiaccio compresso Prendiamo della terra un attimo E facciamo Allora Facciamo un anello più largo di quello di prima Quindi verrebbe una cosa Di questo tipo Ecco fatto Sperando che Bassi per contenerlo Perché sinceramente non lo so Sto sperimentando assieme a voi Ora facciamo spawnare questo snow golem Vediamo se ce la faccio Dai 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 Ok ce l'ho fatta È caduto Subito È morto Perfetto Preciso A questo punto Voler fare tutta questa figata Del sistema di raccolta d'acqua Diventa inutile Spacchiamo un po' queste cose E mettiamo una tramoggia direttamente sotto E mettiamo una tramoggia direttamente sotto allo snow golem Perché tanto vale Per cui questa me la piglio Ok Ci pigliamo questa Chest La mettiamo La mettiamo esattamente qua sotto Ok la lasciamo lì anche nell'acqua Chi se ne frega Prendiamo la tramoggia Shift E la piazziamo sopra Ce la facciamo Entro domani Non ce la facciamo Entro domani A questo punto lo devo comunque tenere Incastrato lì Per cui come possiamo fare Potremmo utilizzare Degli half slab Sì beh è una buona idea Devo andare a prendere Degli half slab In questa puntata Sto facendo avanti indietro Tipo dieci volte No sul serio Sarà la sesta volta almeno Che faccio avanti indietro Allora Facciamo che sopra questo blocco di terra Facciamo spawnare Lo snow golem E poi lui cadrà Qua dentro E verrà intrappolato Grazie a degli slab Quindi facciamo Utilizziamo Ma sì dai facciamoli tipo alternati Per fare una cosa Un attimo più carina Tipo Così Ok E li alterniamo con gli slab Di legna normale In questo modo Ora perché sto facendo questo Faccio così Perché poi Qui ci rimarrà esattamente Mezzo blocco Per spaccare la neve con la pala E poterla appunto raccogliere Che è il nostro Scopo finale Adesso cerchiamo di far spawnare Il dannatissimo Golem Metto La zucca E chiudo Ok Spacco la terra sotto di lui Spaccala E non c'è caduto dentro Perché non c'è caduto? Perché ovviamente lo stronzo si è spostato Eccolo lì Vieni qui per cortesia E cadi dentro Sto impazzendo La sto odiando Questa farm Tanto sei sempre intrappolato Non è che ti libero Quindi vieni qua Perché Non ottieni nulla Scappando Dov'è che sei? Eccolo lì Guarda ci prova Ci sto Provando Vai Al centro Dannato Guardalo Ti odio Oh Ce l'abbiamo fatta Ed è rimasto lì Però Non spawna la neve Che pazienza Perché non spawna la neve? Mi stai dicendo che forse questo bioma non va bene? Siamo In una pianura? Non puoi spawnare la neve nella pianura? Mi stai dicendo questo? Sì che la può spawnare Vedi che la può spawnare? Perché non la spawna Sulla tramoggia Se nel mondo di prova L'ha spawnata sulla tramoggia? Perché il tizio se ne è già scappato? Sì sì ma tu scappa Tu scappa Adesso ti faccio vedere io Ti faccio vedere io Vieni qui Farm dei miei stivali La sto odiando sta farm Ok Tieni Ecco La rifaremo da capo Mi sono rotto le palle Ciao ciao farm di ghiaccio Ciao ciao snow golem Non è esploso perché c'è l'acqua Ma neanche questo riesco a fare Cazzo Uccidi lo snow golem Non fallire mai più TNT Oh E che diamine Perfetto La tirerò giù tutta E la rifacciamo da capo Perché sta roba Non funziona Molto meglio così Molto ma molto meglio Mamma mia Ecco Facciamola così Semplice Semplice Efficace Non mi devo sbattere la testa Perché ho guardato Dei tutorial Su come fare La farm di neve Automatizzata O semi automatizzata Perché automatizzata No Semi automatizzata Perché devi spaccare tu Lo strato di neve Ogni volta Per fare una farm così Devi Usare tipo Dei glitch Incredibili Fare Tutti dei circuiti E sono cose Abbastanza complicate E secondo me Anche un po' Inutili Per una farm di neve Che si utile Perché ti permette Di ottenere facilmente Tante palle di neve Con le quali Puoi fare tanti blocchi Adesso Non ne ho prese così tante Ne avevo già un po' Nell'inventario Ovviamente Ma non è così importante Da giustificare Tutto quel lavoro Secondo me Peccato perché Non si riesce A venire a capo Io volevo fare un sistema Semi automatico Quindi rendere automatizzata Almeno la raccolta Della neve Che è quello che poi Fa qualsiasi farm di neve Purtroppo Il dannato Omino di neve qui Non sta Né sulle staccionate Perché tipo Ci cade attraverso Non si sa dove gli finisce La staccionata Suppongo nel sedere Perché Non si sa In che altro punto Possa nasconderla Sulle tramogge Non ci sta L'acqua la ammazza Quindi insomma Non si sa Che diamine fare Potrei semplicemente Fare una cosa del genere Che sicuramente Male non fa Ed è comunque Una farm di neve Quando ho bisogno di neve Posso venire qui E farmarla La rifinesco così Per farla sembrare Una specie di Scheggia di ghiaccio Anche se questa facciata Ha un qualcosa di fallico So già che me lo direte Però vabbè Facciamo una cosa di questo tipo Con una porta Si entra Fai così Quando c'è bisogno E basta Non ci pensiamo più Perché Vabbè che rimane tutto in giro Cioè È una cosa indecente Però almeno abbiamo Un metodo Per fare Della neve veloce Perché comunque qua La neve si fa Non è quello il problema Ecco dai Così è già un po' più Decoroso Diciamo È un igloo Una specie di Di scaglia di ghiaccio Un po' strana Non è proprio uscita Come la volevo fare Però non mi bastava Neanche il materiale Infatti Mi sono avanzati Solo sei pezzi Di questo ghiaccio Pregiatissimo Tra l'altro Perché l'abbiamo raccolto Stralontano E ne ho sprecato un sacco Per fare sta roba Perfetto Però dai È così Abbiamo sistemato La farm di neve Non ne voglio più sapere È stata la farm Più fallimentare Della storia Di questa serie E ne sono consapevole Però adesso funziona Perlomeno È molto semplice Però funziona E la neve Sarà anche una cosa importante Perché potremmo utilizzarla Per fare diverse costruzioni Perché appunto È un materiale Che con la farm Si fa molto velocemente Quindi può ritornare Molto utile E per finire la puntata Vi parlo proprio Delle idee Che vi volevo proporre Durante la puntata Però poi mi sono distratto Con questa roba E non sono riuscito A dirvele Per cui per le prossime puntate Le idee che pensavo Erano Di fare Una sorta di casa In stile asiatico La volevo fare Sulle montagne Però quella sarebbe Una cosa anche Abbastanza lunga Oppure Potremmo utilizzare La neve Per realizzare Una cosa che mi è venuta in mente Che vorrei fare Assolutamente Vale a dire Un satellite Una specie di luna Quindi prendere Della neve Del ghiaccio Fare una enorme Palla di neve Che somiglia A un satellite E farla da qualche parte Nel cielo Magari Realizzarla Sopra All'hangar Che da qui non si vede E pensare Ad un modo Per raggiungerla Con una specie Di nave volante Che funzioni In verticale Potrei pensare Di realizzare Una cosa del genere Oppure Potremmo fare La ender farm Perché non l'abbiamo ancora fatta E prima o poi La dobbiamo fare Oppure potremmo realizzare Un mulino E nel caso del mulino Io lo farei Nella zona Delle coltivazioni Ho visto che Il mulino Mi è stato suggerito Da un po' di persone E comunque Era una cosa Che già volevo fare La vorrei fare Proprio qua sopra Quindi ragazzi Ditemi anche Che cosa ne pensate di queste idee O se ne avete altre Proponetele E vediamo un po' Da dove cominciare Nella prossima puntata Per ampliare Ulteriormente Questo mondo Detto ciò Se il video vi è piaciuto Come sempre Lasciate un bel like Commentate Condividete Per sostenermi Io vi saluto Ci vediamo Alla prossima Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ecco dai Così E' già un po' più bellino Più decente Di prima Sembra un test Il video qua Ciao a tutti